Buongiorno a tutti, sono le ore 11.10 e iniziamo la seduta, procedo con l'appello a che occorre la giustifica. Chiarappa Patrizio? Presente, con giustifica, grazie. Cucunato Piero? Presente. Di Nardo Raffaele? Enrico Filippo Massimo? Presente, buongiorno. Buongiorno, Ghinizi Micheitano? Presente. Maesano Vincenzo? Mancuso Paolo? Pappata Claudia? Presente. Sordini Simone? Perfetto, procediamo Presidente con il primo punto e nella cartella verbali da approvare si sono caricati il verbale del 22 febbraio e il verbale del primo marzo. Ah, la Dallarico, buongiorno consigliera. Buongiorno a tutti. Allora, leggevo il verbale. Mi scuso con la Dallarico poi che non ci sono potuti sentire. ma onestamente sono avuto degli impegni, dei casini. Patrizio, quando vuoi ci sentiamo, eh? Sì. 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 Grazie. 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 Buongiorno. Buongiorno. Siamo leggendi verbali. Grazie, grazie. Allora vado subito. Allora, dopo l'apertura entra Sordini, c'è il dipartimento. Io sto leggendo, diciamo, le mie, ovviamente le mie affermazioni. Il Presidente ha deciso che la Commissione Ogliana è stata convocata per trattare le prove degli impianti sportivi. Poi erano riscritto, per le prove sarà convocata una successiva commissione. Per i bandi, no, per oro che era quella, per i bandi sarà convocata una successiva commissione. Parliamo della seconda pagina? Esatto. Ah, per i bandi. Eh, certo. Ok, sarà convocata una successiva. C'era comunato che parlava dei bandi, ma quella era sulle prove. In andone. In andone. Uguale l'errore è stato ripetuto alla pagina, alla pagina, all'ultima pagina. Presidente, per la prossima seduta tratterà l'argomento dei bandi per gli impianti sportivi delle prologue. All'ultima pagina. Ok. Bella. La parte finale del Presidente sottolinea la situazione di mancanza di risorse umane porterà al crollo del sistema pubblico, quello del collasso. In quanto le imprese, non avendo risposte, rischiano di chiudere non producendo reddito, mettendo a rischio molti costi di lavoro nel settore privato che si ripercuoterebbe mancate imprese di tasse e conseguente carenza di personale dell'amministrazione pubblica. Il collasso, no? Il crollo. Scritto, scritto. Grazie. 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 Sì, sì, volendo posso anche richiedere per la fine della Commissione anche una nota extra per la trasparenza, insomma che non c'entra nulla con ciò che trattiamo materialmente nel municipio. Allora, il progetto è tutto. La formula è confermata, eh? Divertente, perché io non posso aprire il nostro problema. Andiamo avanti, dai. Una cosa, io stiamo intervenendo solamente adesso. Non puoi andare a trovare un amico, che ne so, Arieti. Non manca, però la formula è poi non lo posso nominare, eh? Il Canada, questo paio. Presidente, non so se avete corretto, qui c'è una riga, la fine della seconda pagina. Il progetto risponde che gli impianti comunali del municipio sono 21 le richieste di proroga. Sono 15 le richieste, no 21, che io sapevo. Quindi è corretta questa... Che verbale stiamo sempre su quello del primo? Sì, il 7-21 del primo marzo. Problema che sti verbali, capito? Troppe cose. Dopo che il consigliere Di Nardo chiede quali impianti, quanti impianti comunali sono presenti nel nostro municipio, la riga, diciamo, lo spazio sotto, cioè il dipartimento risponde che gli impianti comunali del municipio sono 21 le richieste di proroga. Sicuramente c'è stato un problema di battitura, cioè si è cancellata qualche cosa. Dove stai tu? All'ultima pagina? Pagina 2. Pagina 2. Sì, allora il dipartimento risponde che gli impianti comunali nel municipio sono 21. 21 c'è scritto. E invece? E quali sono le richieste di proroga? Si deve essere cancellata la parte relativa alle richieste di proroga. Il dipartimento risponde che non ci sono 21 le richieste di proroga. No, è sbagliato. Sono 21 gli impianti. E 14 le richieste di proroga? Se magari erano 7 le richieste di proroga, non so del genere. Di certo non 21 comunque, perché 21 sono gli impianti. Allora, qua dice, se voi leggete l'intervento sopra, dice che di queste 7 richieste di proroga, 2 sono state già concluse. Quindi 7 sono le richieste. Ah, sono 7. Allora, quindi il dipartimento risponde che gli impianti comunali nel municipio sono 21. E le richieste di proroga sono 7. Ok, le richieste di proroga sono 7. Ok, lecini? Perfetto. Sì, sì, si deve essere sicuramente cancellata, insomma, una parte della frase. Per me ok entrambi verbali. Anche per me, perché la paure, anche per me. Perfetto. Allora, ci siamo con i verbali? Sì, sì, io sì. Ho sentito alcuni, sì, alcuni non hanno parlato. Va bene, sono per approvare. Erano questi del 22 febbraio e primo marzo? Sì, sì. Sì, sì. Allora, i verbali sono approvati. Possiamo chiamare il presidente del municipio. Sì, ok. Presidente, buongiorno. Sì, buongiorno, presidente. Allora, grazie della presenza e sottolineo che lei è sempre, non voglio ripetere presente, comunque, ma sempre... No, sì, grazie. Grazie. Gentile e pronto quando viene chiesta appunto una sua condivisione. Allora, l'argomento dell'ordine del giorno lo abbiamo visto e dato che è stata una richiesta un po' generale per parte dei vari gruppi politici presenti nella commissione trasparenza, e io lascerei la parola ai consiglieri per cercare di creare una condivisione sugli atti e il percorso intrapreso dal municipio. Io, diciamo, le cose più importanti, ovviamente, chiedo ai consiglieri perché c'è ospite la consigliera Tallarito, perché anche lei era prestata a quest'ordine del giorno. Allora, chi vuole... Allora, chi vuole... All'audio? Ok. Prego, consigliera. Grazie Presidente, io in particolar modo vi ringrazio per avere deciso di convocare questo punto all'ordine del giorno, ed è di grande interesse sapere a fine mandato che cosa possiamo considerare realizzato per questi anni di mandato in particolare. è stato molto interessante parlare del 2018, del 2019, visto che comunque in un modo o nell'altro il 2020 ci ha visto con un'attività politica sensibilmente ridotta. Io vado a memoria e non mi vorrei sbagliare, voi siete sicuramente più esperti di me nella conoscenza del regolamento, ma mi sembra di ricordare che c'era un articolo del regolamento che prevede che venga effettuato un aggiornamento semestrale da parte del Presidente, cosa che a mia memoria in questo momento ritengo che non ci sia stata. Quindi io ringrazio il Presidente per la sensibilità e consentire pertanto non solo ai commissari, ma all'intera cittadinanza, in particolare ovviamente del nono municipio, per capire che cosa effettivamente questa amministrazione sta facendo. Alla luce anche del fatto che ci sono stati una serie di cambiamenti politici all'interno dei gruppi, e di conseguenza abbiamo bisogno di capire gli atti che comunque in un modo o nell'altro abbiamo portato all'attenzione del Consiglio, come sono stati portati avanti dall'organo esecutivo. Ho completato, grazie Patrizio. Grazie consigliera, sì, l'ordine del giorno è appunto gli atti votati dal Consiglio, ripeto, cercando di evidenziare i più importanti, non anche prodotti, immagino prodotti anche dalle commissioni, e poi dal Consiglio, o qualche mozione votata comunque dipendente da noi, non solo ovviamente delle ratifiche di voto da parte del Campidoglio, anche perché parliamo del triennio 18-20, 18-19-20. Però immagino che il Presidente si sia preparato in tal senso, avendo effettuato una scrematura in quest'ordine. Altri interventi, consiglieri? No, al momento no. Presidente, noi lasciamo la parola. Grazie. Sì, grazie. Allora, guardate, il problema dell'esame di tutti questi atti è un aspetto un po' difficoltoso, nel senso che solo gli atti del Consiglio Municipale relativi a risoluzioni, ordini del giorno e mozioni, quindi lasciando perdere espressioni di varie, deliberazioni, eccetera, arriviamo a oltre 100 atti. Per cui, secondo me, se vogliamo fare un lavoro che abbia un minimo di senso, un minimo di efficacia, occorre segmentare questa attività. e una volta accordati con voi su questa attività, possiamo eventualmente dare delle risposte. Secondo me la cosa migliore sarebbe, intanto, esaminare argomenti di ogni commissione separatamente. Questo ci aiuta più facilmente a interloquire, aiuta a me anche a interloquire più facilmente con l'assessore di riferimento, che ovviamente conosce l'argomento meglio di me, quello che, diciamo, sia perché magari ha partecipato in commissione alla realizzazione, alla redazione dell'atto, lo ha seguito nel Consiglio, nell'approvazione, e poi, naturalmente, nel momento in cui io invio gli atti agli interessati, in copia c'è sempre l'assessore di riferimento. Quindi, secondo me, bisognerebbe dividere il lavoro per commissione, esaminare poi anche eventualmente il tipo di atto. Io mi permetto di consigliarvi di partire dalle risoluzioni, perché sì, ci sono anche gli ordini del giorno, le mozioni che possono essere esaminate, però, diciamo, le risoluzioni sono più un lavoro, diciamo, complessivo della commissione, quindi dell'espressione di tutti i consiglieri, suddivisi per anni. Per esempio, non so, si potrebbe fare sedute, diciamo, di commissione di trasparenza successive, esaminare, non so, la prima volta, diciamo, la commissione 6, visto che la consigliera Dallarico, la presidenta della commissione Dallarico, ha parlato poco fa, e esaminare dalla commissione 6 tutte le risoluzioni presentate e approvate nel triennio e vedere l'esito di queste risoluzioni. Dopodiché si può passare, non so, alla quarta, alla terza, insomma, andare avanti con i vari ambiti, in modo tale che così fotografiamo anche meglio, secondo me, la situazione, perché se facciamo, diciamo, o avere un elenco da voi, un elenco di atti che a voi interessa capire che seguito hanno avuto, e allora si può fare anche in questa maniera, però risulta poi essere un lavoro un po' così a macchia di leopardo. Direi che l'incontro di oggi, secondo me, deve servire per stabilire un metodo, dopodiché operiamo di conseguenza. Perché, ripeto, sono talmente tanti gli atti che mettersi lì a fare eleggere uno per uno, a fare l'elenco, ci vorrebbe troppo tempo e non so neanche se può essere efficace. Perché volevo anche sottolinearvi questo. Rispetto a questi atti, una volta che questi atti vengono mandati normalmente ai dipartimenti, alla sindaca, a secondo degli ambiti, e se ne fa carico, o ai nostri uffici, se ne fa carico poi l'assessore di seguirli, ci possono essere atti che sono stati, diciamo, portati a compimento secondo quelle che erano le linee, gli indirizzi politici del Consiglio. Ci possono essere atti che non sono stati presi in considerazione dai dipartimenti, perché magari o per mancanza di tempo, perché non hanno la struttura che possa sostenere, che possa portare avanti questo discorso, oppure sono stati assolti parzialmente, quindi magari alcune cose sono state recepite, altre meno, e quindi non c'è un on-off, per cui dice questa risoluzione tale del giorno è stata portata a termine, ha avuto seguito, sì o no, ci sono sfumature su tutti gli atti che noi abbiamo fatto, per cui se intendete seguire il mio consiglio, ditemi voi come volete procedere, si può procedere, ripeto, in questi due modi, o commissione per commissioni e tipologia di atti, per tipologia di atti, per esempio, torno a dire, la commissione sesta, le risoluzioni del triennio, e quindi io poi saprò esservi puntuali, magari faccio partecipare anche l'assessore di riferimento, oppure mi fate un elenco delle questioni che vi stanno più a cuore, e poi vi do conto di cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto, insomma questo è un po' il mio punto di vista, non so se voi condividete il metodo, lascio a voi la parola. Grazie Presidente, allora io prima di esprimere la mia opinione, volevo dare la parola ai consiglieri che hanno alzato la mano, Tallarico, poi Mancuso, al momento, grazie. Presidente, grazie, allora io ringrazio il Presidente per averci raccontato, diciamo, e suggerito un metodo, io mi sento di dire che stamattina, anche se non sono membro di questa commissione, sono molto interessata al tema, tant'è che, come dire, faccio parte dei richiedenti, ma la questione è la seguente, la convocazione stamattina, se voi non mi smentite, perché siete migliori conoscitori del regolamento rispetto a me, il regolamento prevede che doveva essere fatto, come vi ho detto, un aggiornamento semestrale, se l'aggiornamento semestrale non è stato fatto, è normale che siamo arrivati ad una situazione di imbuto, oltre il quale non è facile andare avanti, allora non mi sta bene, certamente la proposta di dover appesantire il lavoro istruttorio delle commissioni che lavorano per il Consiglio, io mi espongo, poi chiaramente ognuno faccia le sue considerazioni dal punto di vista della propria competenza, ripeto, non sono membro di questa commissione, ma per me stamattina sentir proporre un metodo non è facilmente accoglibile come proposta, in quanto noi stamattina avremmo dovuto almeno capire di che cosa stiamo parlando, perché se manca la condivisione in consiglio, in un modo o nell'altro, dobbiamo arrivare ad una commissione trasparenza, quindi se la commissione trasparenza oggi non riesce ad ottenere delle risultanze importanti sul lavoro svolto, perché noi come consiglio rappresentiamo l'organo supremo, a quel punto è chiaro che io mi sento di spingermi subito per dire immediatamente un consiglio straordinario, indipendentemente da chi partecipa, se l'intera giunta o solo il Presidente, però secondo me tutto quello che per noi ha rappresentato fatica e lavoro oltre che essere stati portavoce del territorio, dobbiamo necessariamente dare una risposta e avere anche noi contezza di quello che si sta facendo, ovvero atto votato, qual è il successivo atto di giunta che ha reso esecutivo l'atto che abbiamo votato e che cosa è rimasto nel cassetto, possiamo anche farlo in questo momento in modo sommario, dopodiché possiamo entrare nel merito quando saremo in consiglio, ma questo in consiglio è, se è vero e mi ricordo bene, un atto che è mancato e il Movimento 5 Stelle ha rappresentato quando è arrivato al governo trasparenza, la casa dei cittadini e la casa di vetro, eccoci qua, io ho terminato perché speravo di potermi arricchire molto di più rispetto a quello che sto sentendo, mi perdoni Presidente di Innocenti, sa che io comunque ho grande stima di lei e le difficoltà che sta incontrando nel governo del territorio, ma mi sembra anche giusto permettermi di fare un suggerimento a fine mandato dato che comunque indipendentemente da tutto il conto bisogna presentarlo ai cittadini e noi consiglieri prima di tutto avremo bisogno di capire un po' meglio cosa sta succedendo. Ho terminato, grazie, buon lavoro a tutti, vi ascolto. Prego Mancuso, grazie. Sì, grazie. Allora, io penso che uno non escluda l'altro, sicuramente discuterne anche in consiglio può anche essere una cosa estremamente positiva, però dal mio punto di vista il metodo che il Presidente Dario Innocenti propone secondo me è molto interessante. in particolar modo poi per ciò che concerne io il Presidente della Commissione Urbanistica alcuni atti che sono stati votati all'unanimità io so insomma il Presidente del Municipio già in passato dopo i primi mesi che comunque ci raccontava insomma i suoi sforzi per poter andare tra il Campidoglio e i Dipartimenti insomma fare in modo che le indicazioni del Consiglio insomma fossero eseguite ci fosse un seguito a questo per cui per me sarebbe ottimo poter analizzare ovviamente tutti gli atti penso che sia un po' complicato però in particolar modo ci sono alcuni atti abbastanza così fatemi usare questo termine proprio e per di più votati anche all'unanimità e ai noi nonostante l'impegno che il Presidente ci ha messo nei confronti della Giunta Capitoline e Dipartimenti non hanno raggiunto l'esito sperato quindi poter riaffrontare come appunto ci ha suggerito il Presidente in una Commissione Trasparenza ripeto ciò che riguarda l'urbanistica per me sarebbe rispettare una cosa di questo genere per cui io mi associo sia a un lato a quello che ha chiesto la Presidente della Commissione Sesta Alessandra Tallarico insomma anche di fare un consiglio dove si parla poi in maniera un po' più generale e complessiva un po' di tutto poi in plenaria ma anche analizzando qui in trasparenza commissione per commissione o almeno per la seconda io sono totalmente favorevole grazie Presidente Chiarappa grazie Mancuso Cucunato non c'era la Pappadà prima Pappadà non la vedo Claudia c'eri tu? eh chi c'era prima non lo so io ho alzato la manita c'era prima Claudia scusa Claudia tanto brevissima devo semplicemente dire che le due questioni cioè affrontare gli atti la relazione del Presidente in Consiglio e affrontare gli atti in commissione di trasparenza sono due cose previste entrambe dal regolamento e sono cose diverse non devono essere assimilate perché hanno un significato ed un valore diverso quindi io ritengo importante entrambe tant'è che spesso in capigruppo ho ricordato l'importanza della relazione semestrale in Consiglio per quanto riguarda la commissione trasparenza noi ogni tanto Patrizio è capitato di farlo io direi di andare a prenderci gli atti eh su cui è importante avere questo tipo di relazione dal punto di vista proprio del del controllo della garanzia e della trasparenza e invitare il Presidente a relazionare quindi secondo me eh andiamo ad individuare gli atti su cui riteniamo sia fondamentale questo tipo di lavoro in commissione trasparenza che non è una questione tematica ma è una commissione che ha un obiettivo ben definito anche dal nostro regolamento e procedere in questo in questo modo grazie Claudia Cucunato sì io ho più volte chiesto in capigruppo e anche in commissione trasparenza la verifica semestrale che non ricordo l'ultima volta quando si è stata fatta forse tre anni fa Presidente non so se ricordo male però al di là di questo c'è un altro aspetto che mi preoccupa io qui vedo lo diceva prima Mancuso vedo tantissime commissioni che hanno prodotto atti votati poi anche all'unanimità sulla sull'urbanistica è palese praticamente di tutti gli altri votati penso che nessuno sia giunto a compimento sulla mobilità uguale più o meno forse su sport e cultura qualche cosa l'aggiunta poi ha avallato con iniziative però ci sono tantissimi temi di discussione che praticamente sono rimasti carta straccia come ho sempre detto all'inizio io non lo so qual è il motivo non so quali sono state le difficoltà che sono state incontrate ma di certo se il presidente ha bisogno di aiuto e l'avevo più volte detto nelle priorità di questo fine legislatura di poterlo inserire solo conoscendo noi dell'opposizione possiamo dare una mano ma se non ci fate partecipi di quello che è l'impossibilità ad attivare alcuni atti anche con la giunta e con i dipartimenti con Roma Capitale è chiaro che non possiamo nemmeno dargli una mano del resto io ripeto l'ultima relazione io sinceramente me la ricordo tanto tempo fa ma vado ancora più nello specifico proprio con degli esempi lampanti basta vedere tra emendamenti votati nel 2019 emendamenti votati nel 2020 ordini del giorno votati nel 2019 ordini del giorno votati nel 2020 collegati al bilancio quindi a una manovra certa e vado a fare la verifica purtroppo quasi nulla di quei emendamenti sia di maggioranza che di opposizione di quegli ordini del giorno e di quelle proposte tra l'altro votate anche in commissione avete sempre chiesto perché non portate in commissione sono state portate in commissione sono state valutate sono state votate dalla commissione hanno avuto il parere positivo della giunta sono andati in consiglio le avete votate e sono rimaste la morte qui ci sono diverse decine di atti che praticamente non hanno trovato di scontro e io penso che sia talmente valese l'impossibilità a dimostrare il contrario che è veramente tangibile quello che io sto dicendo e l'ho detto più volte non so ripeto le problematiche però almeno informare le forze di opposizione perché immagino che le forze di maggioranza siano informate ahimè nemmeno tutte perché quando parlo con qualche presidente di commissione che oggi sta al gruppo misto o sta ad altri gruppi politici mi dicono noi non abbiamo avuto mai un riscontro da parte della giunta noi non abbiamo mai avuto un riscontro da parte del presidente dispiace di queste cose ma è la pura verità ho finito prego maizano prego sì grazie presidente a parte l'ultima frase di informato che non è vero perché sono ben informato tutti quanti ma al di là di questo volevo solo ricordare che oltre alla relazione del presidente casomai si dovesse chiedere c'è anche la relazione del presidente della commissione trasparenza come lei pensa presidente Chiarappa quindi casomai bisogna coordinarsi per fare in maniera che siano tutte approfondite e fatte con i tempi dovuti insomma solo questo grazie consigliere maizano mi scusi se mi chiedo una cosa a che ora è entrato e le occorre la giustifica ma io ho scritto subito appena sono entrato ma non l'ho letto non la leggo in chat le 11 aspetta le 11 non c'è scritto in chat capito non c'è scritto eh no l'ho riaperto proprio adesso per vedere c'è scritto il consigliere Sordini ma lei non c'è scritto l'ho scritto su un'altra chat comunque erano le 11 e 20 11 e 30 va bene scusi scusa maizano mi puoi dire di che cosa non è vero perché è facile dire non è vero è facile mi dici l'ultima affermazione di Comunato che il presidente di commissione quant'altro non può essere informati non è vero ah non è vero che quindi praticamente Mancuso prima ha parlato di maggioranza ha detto una falsità Baros che prima ha parlato ha detto una falsità Larico che prima ha parlato ha detto una falsità cioè tu prima di fare questo ti ha affermato di maggioranza lei ha detto i presidenti di commissione di maggioranza che sono passati ma perché ci sono presidenti di commissione di maggioranza e di minoranza i presidenti sono presidenti di commissione scusa lei ha detto ripeto lei ha detto i presidenti di commissione di maggioranza che sono passati ho detto precedentemente di maggioranza e io le ho detto non è vero ma che cosa non è vero non è vero è generico allora glielo dico per la quarta volta lei ha detto dichiarato i presidenti di commissione di maggioranza passati al misto hanno detto che non sono non erano informati delle varie ma l'ha sentito quello che ha detto la Talarico quello che ha detto il consigliere della urbanistica l'ha sentito forse è arrivato dopo probabilmente forse è arrivato dopo quindi probabilmente le stesse cose che ho detto io va bene io le sto dicendo che non è così ma lei può dire quello che vuole però non può dire che uno dice il falso è una cosa diversa avrà capito male no 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 lo ha dichiarato mettiamolo vabbè ragazzi chiamatevi a centrarmi diciamolo questa cosa a verbale di quello che ha sentito che non ha sentito diciamo che Maesano sempre un po' vabbè andiamo avanti no punto semplicemente è quello che sento non ho attaccato nessuno no però hai detto hai detto una cosa che mi chiede è questo riscontro è protesia no poi ho detto decisamente sull'allevolamento io fermi la lazione è il presidente di trasparenza grazie nulla di ok Maesano un attimo allora se posso anche se vi accavallate non si sente nulla esatto ok se posso fare comunque Carmine lo metta a verbale quello che ha dichiarato Maesano eh cortesemente vabbè allora se io posso potrei diciamo posso fare un ciunto di quello che ho ascoltato e condiviso diciamo un po' da da tutte le parti questa è stata una diciamo una commissione sicuramente ehm convocata in maniera troppo generica mi sono diciamo rifatto alla richiesta di alcuni consiglieri dopodiché eh se vogliamo assolutamente eh sfruttare questo incontro anche per delineare un percorso che sicuramente è eh abbastanza lungo che è l'esame dei appunto degli atti votati in consiglio e che per corto appunto hanno intrapreso o meno per quanto mi riguarda eh lo possiamo definire oggi però in maniera netta assoluta e non avere alcuna proroga alcun anche definire i giorni eh perché almeno questa commissione diventa utile perché altrimenti comunque ci sarebbe voluta una condivisione eh immagino col presidente del municipio eh per eh appunto eh definire il percorso per l'analisi che oggi è estremamente importante anche perché ci troviamo diciamo a fine mandato perché voteremo a ottobre ormai manca il decreto ancora a me mi sembra ma si voterà il 10-11 ottobre le amministrative ma diciamo che il mandato naturale scadeva a maggio quindi eh con due mesi prima la stop per le elezioni ci siamo quindi saremmo finiti noi diciamo per Pasqua se non ci fosse stato il Covid quindi diciamo che l'esperienza di 5 Stelle al governo del municipio è terminata ed è giusto rendere i cittadini consapevoli di quello che è stato fatto o meno in maniera molto laica non sto giudicando nulla anzi quindi quindi io sfrutterei la presenza dei consiglieri per condividere un percorso con il presidente del municipio dove ovviamente dobbiamo avere una contezza specifica di appunto gli atti votati e che cosa ne è stato prodotto per me il discorso di andare per commissione può avere un senso anche con l'ausilio del presidente di commissione e dell'assessore competente ditemi voi se siete d'accordo almeno stiliamo immediatamente un calendario con le date della convocazione delle commissioni insieme appunto al presidente anche di commissione e all'assessore competente questa è la la mia idea in maniera razionale e concreta senza nulla togliere a quello che è stato detto da alcuni consiglieri però dato che penso che è giusto avere poi il massimo dalla poi dalla relazione allora Mancuso prego vedo che sia prenotato confermo confermo di essere totalmente d'accordo e poi permettetemi tanto sempre è stato più o meno così di ringraziare anche la consigliera capogruppo Claudia Pappata perché ha espresso perfettamente anche parte del mio pensiero così bene non sarei mai riuscito ad esprimerlo però concordo proprio anche in pieno in quello che dice quindi per me sì sarebbe utile poter fare proprio l'esame di una commissione alla volta proprio perché si può approfondire perché già che noi andiamo ad analizzare due tre quattro se ci riusciamo risoluzioni già il tempo si dilata in maniera in maniera esponenziale siccome ciascuno di noi sicuramente avrà delle risoluzioni insomma che sono più ripeto il termine che ho stato prima corpose rispetto ad altre certo anzi può darsi pure che una sola commissione non sia nemmeno sufficiente almeno questo per la mia esperienza grazie Presidente Chiaratta Cucunato prego no io non devo intervenire ah allora Pappata scusa e niente Patrizio mi confondi sempre con Cucunato e no volevo semplicemente dire ringrazio è una bella confusione a vantaggio di chi bisogna capire però è una bella confusione sti capelli che si è fatto nuovo Cucunato prego Pappata no volevo semplicemente dire che va benissimo il convolgimento dei presidenti di commissione se sono disponibili a partecipare però ovviamente è fondamentale la disponibilità della giunta a venire a relazionare perché poi è l'organo esecutivo quindi convochiamo in modo che ci sia la certezza della disponibilità ad intervenire su tutti gli atti del presidente dell'assessore competente o sebbene sul presidente l'importante è che sappiano rispondere nel merito assolutamente sì Claudia assolutamente sì condivido in pieno ma diciamo che mi aspetto anche la presenza dell'assessore all'ambiente a questo punto perché almeno alla fine dei cinque anni infatti voglio iniziare con l'assessore all'ambiente ma poi ho pensato di chiedere ai presidenti di commissione presenti di cominciare così avevamo già la la loro partecipazione allora vedo a Dallarigo che ha alzato la mano e poi credo che c'è una maggioranza che è d'accordo cominciamo a stirare il calendario anche con i presidenti presenti se danno la loro disponibilità prego Dallarigo se posso vedo che l'orientamento generale è quello di far transitare sulle singole commissioni tematiche l'argomento non vorrei aver capito male come sono le commissioni tematiche no la trasparenza eh la trasparenza perfetto allora mi piace il più il presidente della commissione tipo tu buona per dire no sport infatti volevo peraltro cominciare da te viene si chiede la disponibilità e si convoca per dire lunedì non prossimo quello dopo la prima commissione utile il presidente del municipio la presidente di commissione e l'assessore che peraltro non è che devono andare d'accordo gli uni con gli altri ma si deve solo dire in maniera oggettiva gli atti che sono stati poi votati che peraltro ce li ricordiamo e sono pubblicati che cosa che fine hanno fatto cioè qual è il percorso che hanno avuto e in maniera ripeto estremamente trasparente ripetendola mi sembra un'ottima un'ottima soluzione propedeutica per poi arrivare in tempi brevissimi a questo punto in consiglio in modo tale che saranno avvantaggiati i lavori di predisposizione della relazione finale da parte del presidente guardi io approfitto a lunedì 29 è convocata una commissione già convocata la commissione trasparenza poi il 5 è pasquetta il 12 diventa la prima commissione utile quindi c'è anche un po' di tempo per prepararsi per quanto riguarda l'assessore e diciamo il presidente quindi ovviamente il governo del municipio poi il presidente di commissione è un ausilio che benvenga sia disponibile però è normale che la nostra richiesta è orientata come diceva giustamente la consigliera Pappadà al governo del municipio e allora io dato che siete qui presenti e possiamo io chiudo l'intervento allora chiedo scusa l'unica cosa che volevo chiedere se lei il 12 per dire lunedì 12 aprile era disponibile per diciamo insieme agli assessori competenti e al presidente del municipio cominciare proprio a relazionare sulle sue diciamo deleghe quindi sport io sono sicuramente disponibile e in più aggiungo che sappiamo che lei ora si sono io l'ho sempre vista in ottica di critica a prescindere da dove ognuno faccia parte è vero no no va bene volevo solo dire che la questione è che stamattina è stata pensata una priorità 2018 2019 e 2020 se questo criterio viene sposato da tutti allora ci si può muovere dando praticamente sarà possibile per gli assessori concentrarsi su questo triennio se voi ritenete invece di volere approfondire ancora di più per me il 2018 19 e 20 sono molto rappresentativi di quello che praticamente ci dobbiamo aspettare soprattutto perché il 2020 siamo stati fermi quindi almeno capire un'aggiunta esecutiva in pratica che cosa ha fatto nell'ultimo triennio rappresenta bene il lavoro che è stato svolto e lo potremmo misurare concretamente allora consiglieri io diciamo sono super partes per me va bene 18 19 20 sono comunque tre anni anche se il 20 è mozzato però la vita è andata avanti e anche i processi amministrativi e politici dunque anche da per quanto riguarda il sociale il 2020 è molto importante scusate se sono entrata certo come risoluzione abbiamo avuto 21 contro 17 del 19 e 25 del 18 per cui perfettamente in media almeno a livello di risoluzioni a livello di ordini del giorno ce ne sono state di più nel 20 che nel 18 19 e le emozioni anche sono più o meno come quelle del 20 e del 18 per cui a livello di atti è stato diciamo produttivo insomma poi sulle cose fatte o non fatte che sono potute fare discuteremo però come numero di atti ci sono insomma anche nel 20 ok allora se Presidente lei è d'accordo noi ci diamo un appuntamento in maniera formale e fissata già a verbale e seguirà l'immediata convocazione della commissione cominciando appunto vista la disponibilità anche della consigliera dall'arico il 12 marzo 12 marzo aprile aprile 12 aprile sentate che c'è il cane fatto il cane voleva vedere il Presidente Chiarappa se eravamo attenti si no c'è il cane che abbaglia 12 aprile alle 11 ok un particolare scusate esaminiamo le risoluzioni che sono diciamo l'espressione più più compiuta dell'attività di commissione dell'attività del consiglio o vogliamo vedere anche gli ordini del giorno e le mozioni perché non so ripeto stiamo parlando di parecchi di parecchi atti insomma non lo so se vogliamo cominciare dalla risoluzione ditemi voi per me penso che potremmo cominciare con le risoluzioni però vedete qualcosa perché per me andrebbe visto tutto è normale perché le commissioni avendo comunque un Presidente che poteva avere diciamo una sensibilità politica di un certo tipo potevano andare in una certa maniera mentre anche con i membri di commissione poi dipende anche dagli anni mentre anche gli altri del consiglio sono abbastanza indipendenti io immagino che vada visto tutto sì va bene no ma mediamente mediamente un ordine del giorno è una mozione perché sono le ordini del giorno di mozione sono diciamo da 5 a 10 per tutto l'anno per cui al limite insomma penso che una singola commissione potrà averne uno o due insomma quindi va bene possiamo anche stenderlo anche agli ordini del giorno e alle mozioni le risoluzioni o il diritto del giorno e mozioni ok partiamo così io direi che possiamo partire così poi magari il 12 stabiliamo magari a distanza possibilmente di una quindicina di giorni l'altra commissione andiamo avanti così nel giro di un paio di mesi abbiamo concluso tutto il percorso cosa dite va bene così? allora stiamo aprile probabilmente dovremmo dovremmo un po' stringerle se vogliamo esaminare dipende per esempio ci sono delle commissioni che sono più corpose delle commissioni un pochino di meno poi ci sono anche altri argomenti da convocare per la commissione di trasparenza quindi non vorrei per quello che dicevo una volta fate approfondimento sugli altri una volta fate attività più istituzionali vostre insomma allora noi cominciamo così poi vediamo dai poi al limite se il tempo diciamo a fondo abbiamo sei mesi davanti quindi credo che ce la facciamo a fare tutto però se poi volete accelerare un po' possiamo anche accelerare fare in un'unica sezione magari due commissioni vediamo dipende dal numero di atti va bene io sono d'accordo facciamo così facciamo passo dopo passo il percorso poi possiamo mantenere questo ritmo di una volta ogni 15 giorni oppure ripeto se è necessario se è necessario o stiamo insieme delle commissioni oppure facciamo dei più più amici cominciando con il 12 perché anche il 12 così abbiamo una contezza di quello che succede perché onestamente è molto cioè almeno al mio avviso è abbastanza posso fare una proposta presidente per migliorare il lavoro non so se lo stavo chiedendo al presidente del moricidio naturalmente per avere una sorta di confronto sarebbe opportuno che in base alla convocazione ci faccia avere quelle risoluzioni quegli atti di cui praticamente lei parlerà se no mi sembra un fatto diciamo univoco cioè non ci può essere un confronto su atti praticamente in cui i componenti della commissione non li hanno contezza dal punto di vista preventivo così uno si prepara a chiedere quelle che sono state le risoluzioni attivate da parte degli uffici sto parlando se no come faccio a verificare non la sentiamo presidente no non si sente Dario non si sente dicevo no la presenza del presidente di commissione serve soprattutto a quello insomma a tenere un attimo tenere le fila del discorso però se volete io parlavo degli atti prima magari non tutti in base alla convocazione della commissione saranno 4 o 5 6 quelli che sono non lo so adesso magari ci si fa vedere prima in modo che ognuno nell'ambito delle proprie capacità conoscenze si confronta anche con gli uffici vede effettivamente quello che è perché altrimenti sentiamo lei che giustamente è una fonta autorevole però magari non c'è contraddittorio se mai ci dovesse essere potesse pure che non ci sia perché avete fatto tutto no 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 però io penso che comunque consiglio concunato io penso che quando andremo ad analizzare gli atti chiaramente di ogni atto diremo almeno leggeremo il titolo e il risolve se non altro insomma se non tutto l'atto sarebbe lunghissimo però leggiamo l'intestazione cioè inquadriamo l'argomento ci sarà un risolve e a quel punto lì poi vediamo quello che abbiamo dovuto fare quello che siamo dovuti fare quello che abbiamo ottenuto meno insomma secondo me è sufficiente però non lo so senti Romeo la presenza anche degli uffici prego consigliere cucunato lei chiedeva anche la presenza degli uffici durante durante la tante io non chiedevo la presenza dell'ufficio secondo me è corretto mi basta già il presidente però se io ho un atto in cui faccio un esempio banale in un atto per esempio un atto relativo adesso ne tiro uno a caso sulla sicurezza in cui si chiedeva di fare questo 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 e questo magari il presidente viene e mi dice io ho fatto una comunicazione ma non è questo la tipologia di intervento ritrovativo sto facendo un esempio non è così oppure una iniziativa sullo sport oppure una manifestazione sulla cultura oppure un'applicazione di un protocollo urbanistico cioè io devo avere un riscontro dell'atto prima di cui si parla e poi io se ci sono gli uffici è ancora meglio ma non voglio gravare gli uffici perché magari ci sono tante cose da fare e compagnie belle però magari avere l'atto prima per riuscire a capire attraverso ognuno ha delle conoscenze dentro gli uffici delle persone se effettivamente alcune cose si sono realizzate se si è rimasti a metà se c'è stata impossibilità se non ci sono state le risorse io ho un'idea perché dato che è una cosa molto importante questa che andiamo ad analizzare va fatta bene e quindi prenderà il tempo che prenderà io ogni commissione la dividerei per deleghe faccio un esempio del 12 aprile cioè scuola sport cultura per dire non so c'è pure il turismo la tallarigo non mi ricordo comunque diciamo cultura e turismo stanno insieme io farei una convocazione per dire le 11 scuola con il presidente l'assessore alla scuola e e gli uffici assolutamente sì gli uffici perché se no giustamente il presidente ma non perché non credo o meno ma potrebbe dire noi abbiamo fatto leader politico che ci spettava come probabilmente anche molte volte sarà stato eseguito fatto comunicato ma poi non è andato avanti perché c'erano delle problematiche tecniche capiamoci che nell'80% 70-80% delle problematiche che andiamo a riscontrare oggi sull'amministrazione è derivante dalla situazione amministrativa di organico di problematiche dei regolamenti burocratiche quindi c'è dato che io voglio capire veramente quello che è stato fatto o meno ma non perché devo dire sono stati bravi o meno i 5 stelle o gli uffici hanno funzionato o non hanno funzionato perché più o meno già la sappiamo qual è la realtà ma dato che voglio pensare di lavorare per un futuro che sia più concreto cercare di capire anche le problematiche del perché non sono andate avanti le cose e quindi sono indispensabili gli uffici indispensabili anzi grazie Cucunato che ha sollevato questa diciamo proposta io l'ho completata secondo me in maniera più idonea più fattiva e organica ma senza uffici secondo me facciamo perdere tempo ai consiglieri sprechiamo i gettoni di presenza e tutto quanto mentre con gli uffici noi sappiamo veramente poi dove dobbiamo andare a cambiare delle cose in un futuro anche con una nuova legislatura che ci sarà è questo quindi io convocherei per dire ripeto 11 e un quarto ufficio sport ufficio scuola con l'assessore presidente mezzogiorno sport con l'ufficio sport del municipio e il disporto sempre l'assessore competente è la stessa cosa che avrò il turismo in base alle deleghe che hanno questo è quello che io penso saranno commissioni di due ore però due tre ore è quello che durerà ma non vedo il problema quindi gli uffici saranno presenti assolutamente sì le convochiamo per tempo a sto punto anche i 12 due settimane vanno bene perché si devono preparare però arriviamo a una commissione completa vera ok io ho terminato vedo la tallarico che ha alzato la mano prego sì grazie sicuramente volevo suggerire accogliendo la proposta del consigliere cucunato che condividere un elenco sul quale bisognerà scorrere il lavoro che verrà relazionato è sicuramente fondamentale visto che esiste il tempo e visto che la giunta è sempre attiva questo documento si può sicuramente condividere anche prima soprattutto perché fa riferimento a quello che è stato pubblicato sul 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 sito istituzionale è fondamentale è fondamentale ricordarci anche la ripartizione cronologica nel tempo quindi non perdiamo di vista questo elemento fondamentale 2018 2019 e 2020 rappresentano per noi elementi importanti di valutazione dell'operato avere uno schema su cui lavorare è sicuramente importante io mi affido alla vostra competenza e se voi mi avete già invitato io sarò lì con voi in quel giorno in quelle ore che voi ritenete utili per il contraddittorio aggiungo che molte cose che noi abbiamo votato erano anche di impegno nei confronti del del comune quindi su questo gli uffici municipali potranno aiutarci poco però cerchiamo di non concludere dicendo che non era competenza non era competenza dell'assessore municipale o del presidente perché la politica noi la facciamo per il comune di Roma la ripartizione territoriale oggi c'è domani si potrebbe anche modificare per cui quello che è importante è capire anche l'impegno il dialogo che c'è stato con il comune per l'attuazione di atti che in un modo o nell'altro hanno visto anche il voto del presidente quindi non è che siamo andati da soli e hanno avuto anche il parere dell'aggiunta che mediamente è stato positivo quindi significa che ci si è posti criticamente di fronte alla possibilità di attuare questo indirizzo politico e questo oggi vorremmo capire come si sta attuando vi ringrazio allora grazie Tallarico io volevo anche io sottolineare mi sono dimenticato l'intervento precedente la ovviamente l'anticipazione del degli atti quindi un elenco in questo in questa diciamo in questa richiesta dobbiamo chiedere gentilmente al presidente di commissione di essere d'ausilio ma comunque c'è l'assessore perché vanno ordinati in ordine appunto cronologico dal 2018 al 2020 così abbiamo tutti più contezza soprattutto anche gli uffici perché alcuni uffici sono del comune di Roma lo sappiamo Tallarico però per dire nella sua commissione sicuramente tutto il mondo scuola è importante analizzarlo e dipende dal dal municipio sicuramente sullo sport meno perché abbiamo dibattuto enormemente sul discorso sull'assurdità della situazione sport nel nostro municipio però anche la cultura molto dipende dal municipio quindi parte i fondi quindi sicuramente sarà interessante però quindi vado a definire ad ultimare la definizione dell'impostazione appunto della della convocazione di queste commissioni di analisi degli atti si chiederà la presenza della gentile presenza del presidente di commissione e passatemi il termine l'obbligatorietà della presenza del presidente del municipio e dell'assessore competente alla tematica per come la vedo io perché il governo del municipio è stato diciamo gli assessori sono stati comunque incaricati e quindi per quanto mi riguarda di come approccio al governo del del comune di Roma del municipio l'assessore è obbligato è obbligato a riferire al consiglio ma non lo dico io di regolamento quindi per riprendere l'esempio della commissione del 12 di aprile ci sarà la dottoressa Tallarico con il presidente di innocenti e cominciando sicuramente dalla scuola che è la cosa probabilmente più importante alle 11 l'ufficio dirigente dell'ufficio scuola poi alle 11 e 45 mezzo giorno ufficio sport e l'una per dire l'una meno un quarto ora vediamo i tempi in base agli atti il discorso della cultura con l'ufficio sempre con gli uffici relativi ovviamente del municipio perché non possiamo chiedere ausilio al comune di Roma perché già tanto vengono ragamente quando vengono però io penso che così riusciamo ad avere un quadro a livello municipale buono basta io ho terminato Mancuso e poi ci siamo tutti chiariti possiamo salutarci e procedere appunto con un'anticipazione degli atti da parte dell'assessore della colosiva del presidente di commissione e poi incontrarci appunto nella seduta di commissione prego Mancuso sì allora è importante appunto giustamente ciò che è stato detto in merito al presidente della commissione insomma che può suggerire in particolar modo insomma gli atti che reputa che siano più più importanti da analizzare tra tutti quelli prodotti dalla commissione però credo che anche se ci sono gli altri commisari che vogliono in particolar modo sapere qual è stato l'esito del percorso dell'atto votato e ribadisco spesso all'unanimità quindi anche il presidente del municipio ha votato quell'atto a favore e sicuramente si è battuto per noi negli uffici chitolini per capire eventualmente dove si è inceppato dove si è fermato che cosa possiamo fare eventualmente per ridare anche nuova vitalità a quest'atto riprovorlo magari in forma leggermente differente in modo tale che si possa andare a compimento di quanto era richiesto all'era quindi per me è fondamentale che sia il contributo di tutti i membri di commissione innanzitutto poi dopo ciascuno di noi credo che nelle nostre commissioni dirà quello che noi abbiamo deciso oggi per cui ciascuno dei membri di commissione potrà prendere e potrà fare un proprio elenco ecco io questo che mi permettevo di dire in pratica ogni presidente di commissione magari fa una sorta di elenco in base proprio a ciò che ciascuno ha in particolar modo come interesse insomma di vederlo trattato nella commissione trasparenza quindi diciamo il presidente della commissione che fa da raccordo alle varie richieste cioè non solo una propria idea un po' come diciamo normalmente accade sia nelle due commissioni di cui faccio parte sia in urbanistica che in mobilizzata in genere si lavora sempre così insomma tutti quanti tutti insieme insomma ecco questo mi permettevo di di sollevare insomma come come spunto per poter procedere ecco grazie punto assolutamente accolto diciamo che questa commissione poteva essere anche denominata diciamo decisione di intervento diciamo di analisi no comunque modus operandi per per l'analisi appunto del degli atti votati nel triennio perché onestamente eh avevamo bisogno di un confronto per eh capire quali metodi adottare appunto per andare poi all'analisi di di questi atti perché altrimenti forse non avremmo avuto il risultato che spero potremmo ottenere allora io vedevo collegato al cucunato non so se sarà no ho alzato la mano no 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 di nardo presente l'ho vista che è entrato al 12 sì 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 mi sento mi sento ti sto seguendo eh non so se le faccio un piccolo recap abbiamo deciso di convocare per la relazione diciamo la regolamenta è prevista relazione semestrale in commissione di trasparenza in consiglio ma visto che siamo a fine mandato si decide si ha deciso di appunto convocare delle commissioni tematiche con anche i presidenti di commissione con faccio un esempio il 12 aprile convocheremo la prima con la presidente Dallarico con le sue ovviamente deleghe quindi scuola sport cultura divise per dire alle 11 la scuola con l'ufficio scuola e il presidente e l'assessore stessa cosa lo sport stessa cosa la cultura tutte più o meno di 45 minuti un'ora quindi sono commissione lunghe ma che daranno sicuramente un esito di trasparenza vero perché abbiamo gli uffici abbiamo il presidente abbiamo la presidente di commissione e abbiamo l'assessore quindi chiediamo assolutamente la presenza sotto l'assessore dell'ambiente che non è mai venuto in questa commissione quindi presidente d'innocenti lo dico almeno a un mese almeno perché la prima la dà per essere presente ma lo dico in maniera estremamente colloquiale e amichevole senza polemica Di Nardo voleva fare un intervento lei in base a questa decisione mi sembra c'è un buon procedere nel senso che appunto è giusto fare un recap generale ma penso che comunque questo poi si fa appunto come si è detto anche in aula a livello di regolamento quello che posso dire a livello generale che poi appunto secondo me quello che va controllato fondamentalmente visto che noi spesso siamo diciamo dipendenti a livello di bilancio dal comune sarebbe da vedere appunto se poi gli indirizzi politici che spesso appunto si danno vengono poi messi a bilancio ecco quello forse è l'unica cosa importante poi noi possiamo purtroppo gli atti politici si fanno con i soldi se poi i soldi non vengono messi a bilancio dove c'è l'indirizzo politico è difficile dare un indirizzo politico ecco questo è l'unico commento che mi sento di dare ma appunto visto che inizialmente il presidente di Innocente ha proposto di giustamente di analizzare le commissioni per scusi analizzare gli atti per commissione tematica ed è corretto secondo me però abbiamo perfezionato l'impostazione di questa di queste convocazioni appunto dell'analisi degli atti sfruttando questa commissione il tempo che abbiamo ricavato per cercare di avere una situazione che sia davvero davvero esaustiva per quello che poi è la realtà dei fatti poi se un atto non ha avuto futuro perché appunto mancanza di fondi problematiche burocratiche ma almeno lo sappiamo perché è normale che se io convoco solo il presidente del municipio e per dire il presidente di commissione e l'assessore loro possono dire no abbiamo votato abbiamo fatto mandato l'indirizzo e quant'altro quindi diciamo la parte politica ha generato l'input giusto il problema che poi se l'output non viene recepito perché come diceva lei mancano i fondi problematiche da regolamento ingerenze barie mancanza di risorse umane perché oggi sentiamo comunque delle problematiche il tema risorse umane è centrale e quindi non si è fatto niente quindi non usciamo da là pensando questa cosa però sta procedendo invece no perché è ferma e allora io perché ho chiesto gli uffici assolutamente presenti perché noi in quel modo sappiamo come dovremmo muoverci in futuro perché questa legislatura finirà vinca il migliore alle prossime elezioni ma sicuramente visto che io non ho mai interpretato la politica diciamo da un punto di vista partitico o strumentale ma da un punto di vista concreto e fattivo io voglio sapere che cosa c'è e che cosa non c'è così dalle prossime la prossima legislatura chi ci sarà sicuramente avrà un bagaglio reale concreto un libro scritto di verità sulle problematiche da affrontare io penso che sia una delle cose più importanti che noi possiamo fare e sicuramente come commissione trasparenza ne presento l'obbligo quindi ringrazio assolutamente la Talla Rigo per aver chiesto diciamo la questa chiesto insieme agli altri pure diciamo era già ovviamente in calendario questa commissione ma probabilmente facendola così abbiamo esploso i temi in maniera reale vera così che ripeto possiamo veramente lasciare cito la metafora del libro ma è la realtà scritto con con quello che esiste davvero nel nel nostro municipio allora rivedo Di Nardo che si è collegato e poi andrei a chiudere se non ci sono altri interventi grazie sì sì no il mio è giusto una riflessione che poi chiedo appunto alle persone più esperte in questo nel senso quello che mi chiedevo è molti degli atti che noi abbiamo preso in consiglio sono diciamo atti di municipio nel senso che sono state prese con tutte le forze politiche io mi chiedo se è mai stato fatto un lavoro di vedere non so anche gli anni passati la legislatura passata tutti gli atti che vengono fatti in consiglio quindi c'è un indirizzo politico del municipio poi appunto se ci sono in quel momento delle problematiche di bilancio la giunta che viene dopo fondamentalmente quindi il consiglio viene dopo si annullano questi atti non vengono più presi in considerazione gli uffici o ci dovrebbe essere un iter che poi finisce quello che comunque è iniziato negli anni precedenti perché comunque è stato deciso dal consiglio questo potrebbe essere un aspetto diciamo un po' generale che però mi piacerebbe capire perché se no ogni volta poi magari non ci sono i soldi ma non ho capito la domanda non ci sono mai le necessità scusi lei dice un atto votato dal consiglio che è votato favorevolmente ma a prescindere dall'unanimità o meno votato favorevolmente cioè c'è un'altra legislatura non ho capito voglio sapere se poi semplicemente va in lista e quindi dovrebbe essere completato gli uffici o gli uffici poi li annullano e vanno avanti con altri atti nuovi votato rimane votato e quindi l'indirizzo deve essere mantenuto a meno che non si fa un altro atto che vada a annullare le precedenti decisioni però voglio sapere se è mai stato controllato se poi gli atti mai presi cinque anni fa li abbiamo fatti tutti per esempio a livello degli uffici ho sempre pensato a una persona intelligente mi casca su questo no io sto dicendo un'altra cosa io sto dicendo l'ufficio esempio l'ufficio sport noi gli abbiamo dato degli input cinque anni fa l'hanno mai seguiti quegli input qualcuno ha mai controllato gli atti dei consigli di cinque anni fa di dieci anni fa quello è un altro discorso se fanno queste cose però gli atti se oggi votiamo per dire di mettere a bando che ne so dice lei in centro sportivo bene si vota del municipio quindi siamo in completa in completo possesso del bene lo mettiamo a bando poi si vota che si voterà e quindi non è stato messo a bando e la prossima le legislature gli uffici devono metterlo a bando a meno che non si fa un nuovo atto in cui la nuova la nuova la nuova amministrazione decide che non venga messa a bando quindi gli atti votati rimangono tutti in essere se poi non fanno le cose la prima amministrazione che arriva ogni amministrazione che arriva mi chiedevo se aveva mai preso gli atti della precedente appena si inizia e si controlla quello che poi era stato deciso nel mio consiglio ma era più una riflessione diciamo noi come partito democratico all'epoca sì delle cose rimaste in ballo giuste sono state ovviamente portate avanti giuste si intende quello però che volevate voi a livello politico io parlo giusto inteso come consiglio siccome il consiglio l'ha fatto devono essere comunque compiute ecco questo intendevo comunque una riflessione comunque questo che si sta facendo è un lavoro appunto che diciamo va nell'indirizzo di quello che stavo dicendo che comunque almeno chi arriva si ritrova diciamo un riassunto di quello che erano state decisioni di consiglio quindi almeno può portare avanti un lavoro più facilmente come il Parlamento i decreti di sicurezza di Salvini sono stati votati prima perché c'era una maggioranza poi è cambiata la maggioranza e sono stati sono rimasti quelli no 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 sono stati modificati da un atto dal Parlamento per dire ho fatto un esempio certo va bene di capo comunque mi sembra ottimo questo lavoro lezioni a 50 euro l'ora di politica tanto sto cambiando mestiere va bene e abbiamo terminato giusto ci sono altri interventi no Carmela tutta a posto tutto bene così tutto bene tutto bene quindi chiudiamo chiudiamo prima commozione ringraziamo il grande d'innocente